Buonasera a tutti, ci troviamo qui a Fiumicino, esattamente in via Trincea delle Frasche 211, per presentarvi una nuova realtà nata nel nostro territorio. Seguitemi! V-Lab si avvale di un laboratorio di analisi in sede. Sì, avete capito bene, in sede, dove i prelievi vengono processati immediatamente, rispettando i protocolli di qualità e garantendo risposte urgenti e in giornata. Il poliambulatorio mette a disposizione dei pacchetti personalizzati e competitivi e delle tariffe decisamente vantaggiose. La nostra specialistica, rappresentata dai migliori professionisti, potrà essere un punto di riferimento e di conforto per ognuno di noi. In questo periodo storico così delicato, veniamo incontro alla nostra clientela, mettendo a disposizione i tamponi con coefficiente COI a soli 18 euro e di rapidi qualitativi a 12 euro. In più abbiamo un'offerta dedicata ai minori di 10 anni, proponendo un costo di 10 euro per tampone. V-Lab, al servizio della salute! E ricordatevi, tutte le domeniche mattine aperti per tamponi e prelievi su prenotazioni. Vi aspettiamo!